Ciao ragazzi, benvenuti in un buon nuovo video di Minecraft Sono Corandevus e vi presenterò questo nuovo server aperto da poco Dove io sono uno dei founder E nonché admin, non dico a tempo pieno Ma diciamo che faccio il mio dovere Allora, qui come potete vedere lo spawn Io posso volare, voi giocherete in survival Perché lo scopo di questo server è riuscire a sopravvivere e creare la fazione più forte delle altre Attualmente siamo nuovi, quindi abbiamo ancora poche fazioni Quindi ragazzi venite, create la vostra fazione e fate vedere chi siete Chi siete e cosa sapete fare su Minecraft Come sapete fare la guerra, come siete bravi nella strategia eccetera eccetera Fatemi conoscere, siate qualcuno anche su Minecraft E niente, facciamo una breve presentazione dell'edificio Allora, a destra del spawn abbiamo lo shop Dato che molta gente, giustamente, non ha voglia di andarsi a cercare i villaggi Quindi abbiamo creato noi i villageri in città Qui c'è un'amica che mi sta consigliando cosa devo dire e cosa non devo dire Ok, questo invece è lo shop libero dove chiunque può mettere la propria cesta Come potete vedere qui c'è chi vende le carbone, chi vende l'oro e via dicendo Per fare i soldi, molti me lo stanno chiedendo Allora, noi non mettiamo jobs per il fatto che ci sembra ridicolo Che soltanto spaccando un blocco di legno voi fate i soldi Allora, i soldi si fanno così Voi dovete andare a scavare e trovare diamanti, oro, lapis Visto che non servono niente, lapis lazio, almeno qui servono qualcosa E gli smeraldi Li vendete ai prezzi che trovate appunto su questi cartelli qua Li vendete e fate soldi Raggiungendo circa 500 dollari potete creare la vostra fazione Però attenzione, per creare una fazione, per creare i terreni dovete essere almeno in tre persone Questo per evitare che la gente crei fazioni inutili o da solo o giusto per proteggersi la casa Sì, perché questo server è appunto un full survival E quindi il grief, sì, possiamo dire che è ammesso Possiamo dire perché il grief è ammesso per gli eremiti Ecco Poi nelle fazioni c'è chi ha le leggi diverse C'è chi dice che il grief va bene, c'è chi dice no Quindi quello lo gestite voi Quindi infatti nelle vostre fazioni potete decidere voi le regole Ecco E niente, questo qua è il municipio Che era il vecchio spawn che adesso abbiamo spostato Scusatemi, il mondo si sta generando in questo momento Sì, eccolo qua Questo è il vecchio spawn che adesso è diventato il municipio E niente, una volta che spawnate Allontanato un pochino dallo spawn Potete iniziare a scavare, a cercare i materiali, farvi i soldi, eccetera Ah, non so se l'avete notato Lo spawn in realtà è una piccola navice alla spaziale precipitata su questo nuovo mondo E voi siete praticamente i, tra virgolette, gli extraterrestri, se possiamo dire Che vengono in questo nuovo pianeta di Minecraft e lo iniziano a popolare Un'altra cosa che volevo fare vedere E diciamo la chicca di questo server E appunto questa grandissima nave madre Che sarebbe appunto la fazione degli admin Questa è soltanto giusto rappresentativa Che era la vecchia nave madre che vi ha portati su questo pianeta, tra virgolette Che adesso appunto si è assommata nella fazione degli admin Adesso vi faccio vedere qualche fazione Allora, adesso mi devo solo ricordare Mi devo, mi devo fare Eccovi, devo ricordarmi com'erano i comandi per andare nella fazione degli altri Allora, questa è una fazione Vi faccio vedere una sola giusto per... Non dico il nome, anche se è già scritto, vabbè, nel video se la pari la scritta Vi faccio vedere una fazione giusto per non perdere troppo tempo per vedere tutte le fazioni In ogni caso tutte le fazioni sono belle, sono ben costruite, sono ben curate E sono forti anche in guerra Sono i capi, normalmente chi fonda una fazione anche sceglie dei moderatori di fazione Che abbiano una qualità strategica, una qualità militare strategica Una buona qualità militare strategica, ecco Perché comunque la strategia in questo server è tutto Infatti si tratta di un server survival a fazioni Quindi ognuno può dichiarare guerra all'altra fazione Ognuno può scegliere come gestire la propria fazione Ecco, quindi è un server dove siete molto liberi Ecco, ci sono poche regole, le regole sono... È giusto il rispetto nei confronti di tutti quanti Non vogliamo gente che manca di rispetto alle altre persone Dunque, il server, per tutto il resto è libero L'economia è libera, fate voi In questo server siete veramente liberi E avete la disponibilità degli admin Che sono completamente a vostra disposizione Gli admin non giocano e quindi, niente Sono a vostra completa disposizione Vi potranno aiutare, vi potranno dare consigli Ma non vi potranno dare materiali Infatti cerchiamo di non avvantaggiare poche persone Quindi tutti qui sono anche, sotto il punto di vista militare Sono, non dico uguali Perché ci sono le fazioni che è più forte che meno Dipende anche dalla strategia di fazione Ma comunque, sotto il punto di vista sociale Siete tutti uguali Quindi nessuno viene discriminato Anche chi paga, chi dona il server Non è avvantaggiato rispetto agli altri Ecco, siamo tutti alla pari come potere E niente, questo è il nuovo server che ho fondato Venite a trovarci in tanti Siamo nuovi, abbiamo appena aperto Il server si chiama Dark Reborn Dal clan E niente, vi saluto qui Spero di vedervi online con me Ciao ciao ciao